Samarzic sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il giocatore ormai ex-udinese arriva a Milano per una cifra di 25 milioni di euro più il cartellino di Fabian. Ecco cosa ne penso. Allora, giocatore che secondo me va a completare benissimo il reparto di Simoninzaghi al centrocampo. Andrà sicuramente a fare il sostituto o di Cialanoglu o di Barella. Fatto sta che secondo me in questo momento l'Inter ha il miglior centrocampo d'Italia e non solo. A livello di sostituti perlomeno al centrocampo l'Inter è messa benissimo. Insomma tu hai 6 titolari tra cui 3 faranno panchina. Quindi una vasta gamma di scelta di giocatori. Per quanto riguarda il prezzo l'hai pagato tanto. Forse quei soldi li dovevi andare a investire su qualche altro giocatore e qualche altro reparto. Però fatto sta che il colpo rimane buono. Voto qualità prezzo 7 solo perché l'hai pagato appunto una cifra molto elevata. Ma le qualità del giocatore sono da 9. Quindi ottimo colpo ma se volete sapere di più trovate il video completo sul mio canale.